La Liguria è in prima fila per le morti sul lavoro e questa cosa sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Rispetto ai primi sei mesi del 2022 sono infatti triplicate, passando da quattro morti in Liguria l'anno scorso a dodici. Il dato è emerso dai dati INAIL elaborati da Marco De Silva, responsabile dell'Ufficio Economico CGL Genova e Liguria. Il numero delle morti sul lavoro è triplicato in pochi mesi e descrive una realtà tragica, ha dichiarato il segretario generale CGL Liguria, Maurizio Calà. Da tempo chiediamo a politica, istituzioni e aziende di implementare gli sforzi per aumentare la sicurezza sul lavoro. Occorre investire in prevenzione e formazione, ma occorre essere più incisivi anche attraverso le ispezioni e le norme repressive. Vanno incentivate, conclude, le buone pratiche a partire dalla sottoscrizione di più accordi che limitino i subappalti selvaggi. I dati dimostrano come la Liguria abbia un aumento percentuale più alto rispetto alle altre regioni del nord-ovest per infortuni mortali. Per un totale di 12 vittime, 9 erano uomini, 3 donne. Nel dettaglio 4 sono avvenuti a Genova, 3 a Imperia, 3 alla Spezia e 2 a Savona. Rispetto al totale degli infortuni sul lavoro, sono state 9.737 le denunce in Liguria nel primo semestre 2023, che corrispondono a quasi 54 infortuni al giorno. Al primo posto troviamo il comparto dell'industria e dei servizi con 7.920 denunce, a seguire agricoltura con 192 e infine gli infortuni per conto dello Stato con 1.625 denunce. Ha commentato De Silva, responsabile dell'ufficio economico CGL Genova e Liguria. Genova con 1.463 infortuni rappresenta il 56,1% del totale delle denunce. Seguono Savona con 1.694, poi la Spezia con 1.407 e infine Imperia con 1.173. Grazie. Grazie. Grazie.